E' la prima volta che lascio il mio bambino. E' così? Voi lasciate vostro figlio e io ritorno dal mio. Sono la contessa Vronskay. Sono stata a Pietroburgo per il battesimo di una nipotina. Mio figlio maggiore ha sposato la principessa Shirkov. Siete una creatura affascinante. Perché non vi conosco? Non sono mai stata molto in società a Mosca. Ma conoscete il mio nome? Ho sentito parlare di voi. Sparlare di me, intendete? L'amore. Era amore? Sempre. I miei figli si vergognavano di me, ma preferisco pentirmi di averlo fatto che di non averlo fatto. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Molto. Un inserinho.